Bentornati! Questo è un appuntamento un po' speciale. Solitamente ci vediamo il lunedì e il giovedì, mentre oggi è domenica. Ma ho deciso di girare questo video oggi e condividere con voi alcune informazioni perché, nonostante avessi deciso di non occuparmi, di non fare video sul coronavirus, diverse email mi hanno spinto a fare questo video, ovvero condividere con voi delle strategie psicologiche per riuscire ad affrontare in maniera più tranquilla possibile questo periodo. Oggi, infatti, parleremo di coronavirus e di come poter affrontare meglio questo periodo. Ciao, io sono Angelo e sono uno psicologo. Aiuto le persone a migliorare la propria autostima e le proprie relazioni interpersonali attraverso un cambiamento nel modo di pensare. Ho deciso di aprire questo canale YouTube per condividere con voi tante strategie psicologiche. Ho deciso di affrontare con voi temi quali l'autostima, il miglioramento personale, le relazioni interpersonali, le relazioni di coppia. Quindi, se siete interessati a questi temi, iscrivetevi subito al canale e, mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina in maniera tale che ogni volta avrete la notifica di un nuovo video. E fatemi sapere subito con un bel pollicione che il video vi interessa. Ma entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. In questi giorni il cavallo di battaglia di giornali e il coronavirus. Se ne parla in continuazione. Esistono siti che danno un aggiornamento ad ogni ora su il numero degli infettati, delle persone affette dal coronavirus e anche sul numero delle vittime. Quando si ha una mole così sterminata di informazioni, la nostra mente entra nel caos. Possiamo avere anche momenti di ansia e addirittura panico. Nel grande mare delle informazioni possiamo avere fonti attendibili ma anche fonti non attendibili. A volte le informazioni vengono interpretate in maniera così caotica da generare panico. Molte persone infatti prese dal panico possono darsi a comportamenti ragionevoli. Mi è capitato di sentire persone che si sono autolimitate, autoescluse dalla società per paura dell'infezione. In verità vivono poi in aree completamente assenti da casi di coronavirus. Altre persone invece nel panico e nel caos si danno a comportamenti impulsivi, per esempio quello di svuotare interi supermercati. Ciò è dovuto al panico e alla sensazione di non riuscire a gestire la situazione, all'idea che qualcosa di terribile possa accadere da un momento all'altro. Ciò è legato alla difficoltà nel gestire e nell'interpretare le informazioni che riceviamo. A questo scopo voglio darvi tre strategie utili per riuscire a trovare la lucidità e riuscire ad affrontare con meno ansia questo periodo. La prima strategia che vi propongo è quella di filtrare le informazioni. Credo che sia fondamentale discernere le fonti affidabili di informazioni e quelle meno affidabili. Tra le fonti affidabili io metto il ministero, io metto i giornali, quelli nazionali che hanno una grande storia e una grande autorevolezza. Dall'altra parte esistono una miriade di piccoli giornali o di piccoli siti che danno informazioni caotiche e molto spesso disinformazione. Questi piccoli siti vivono di titoli shock, di titoli allarmanti. Per quale motivo? Perché mettendo un titolo shock, un titolo allarmante, vi spingono a visitare il loro sito, vi spingono a visitare la pagina. E questi piccoli siti di quel click, guadagnano su quel click, anche se poi l'informazione che danno non è sempre corretta. Quindi se volete avere delle informazioni affidabili, rivolgetevi o ai siti del ministero, fondamentale e primo sito di informazione, o a siti di testate giornalistiche più autorevoli. A questo consiglio aggiungo un piccolo suggerimento in più. Evitate di stare continuamente in aggiornamento. Vivere continuamente in uno stato di aggiornamento, purtroppo anche dovuto alla facile reperibilità delle informazioni, ci porta a vivere un continuo stato di allarme. Se noi ci aggiorniamo in ogni momento della giornata sul coronavirus, è normale che la nostra mente pervasa da questo argomento. La nostra vita gira intorno a questo argomento. E come possiamo immaginare? Rendere questo argomento unico non fa altro che accrescere ansia, panico e caos. Se vogliamo tenerci aggiornati, è importante limitare i momenti di aggiornamento. Per esempio possiamo scegliere a pranzo e a cena, ma per il resto della giornata è fondamentale evitare aggiornamenti. Cerchiamo di coltivare altri argomenti ed evitiamo che il coronavirus sia l'unico argomento della nostra quotidianità. Il secondo consiglio che vi do è quello di tenere a bada i pensieri negativi. In un precedente video vi ho parlato proprio di questo argomento. Se avete perso il video su come gestire i pensieri negativi, vi lascio il link in descrizione. Quando ci troviamo di fronte a una grande mole di informazioni, la nostra mente cerca di organizzare queste informazioni e di interpretarle. Purtroppo, durante il momento dell'interpretazione, la nostra mente può metterci i bastoni tra le ruote. Per esempio, possiamo cominciare a pensare che sicuramente verremo effettati dal virus. Questo atteggiamento mentale in psicologia si chiama pensiero catastrofico. Quando abbiamo questo genere di pensieri, tendiamo a credere fermamente di poter prevedere il futuro. Abbiamo un'idea certa di come le cose andranno senza valutare altre possibili ipotesi. Il pensiero anche io mi ammalerò del coronavirus è un'idea rigida di come andrà il futuro, ma escludiamo così delle ipotesi molto più probabili. Un altro pensiero che a volte la nostra mente in situazioni di caos ci può proporre è che la situazione è terribile e io non sarò in grado di gestire l'ansia. Il problema è che proprio credere che la situazione sia terribile scatena l'ansia. È importante imparare ad osservare le cose col giusto senso critico. Evitiamo di farci prendere da falsi allarmismi. Sicuramente c'è una situazione complessa e i ricercatori stanno cercando di porre rimedio. Sicuramente c'è una situazione da tenere sott'occhio, ma da qui a dire che la situazione è terribile c'è una grande differenza. Poi c'è l'idea che non siamo in grado di gestire la situazione. Questo è molto spesso un'idea autoreferenziale ma autosvalutante. Purtroppo quando si è presi dal panico e dall'ansia si perde un po' il senso della realtà e ci si dimentica delle proprie risorse. E vi assicuro che molto spesso le risorse sono maggiori di quelle che crediamo. Un altro pensiero negativo è sono morte tantissime persone. Questa si chiama attenzione selettiva, ovvero si va a guardare solo quelle informazioni, quei dati che vanno a rinforzare la nostra convinzione. Il suggerimento che vi do è quello di invertire la prospettiva. Invece di pensare che sono morte tantissime persone, possiamo cominciare ad osservare che ben il 98% delle persone affette dal coronavirus sono sopravvissute. La maggior parte di queste non hanno neppure avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Se noi impariamo a vedere entrambi i dati, sia quelli negativi ma ancor più ci soffermiamo sui dati positivi, sui dati più realistici, riusciamo a prendere maggiore consapevolezza dell'eventuale gravità della situazione. Se noi ci soffermiamo a vedere solo il numero delle vittime, rischiamo di perdere la consapevolezza delle persone che invece hanno superato il coronavirus e di quelle che non sono state neppure infettate da questo virus. È importante sviluppare un senso critico nei confronti del nostro atteggiamento mentale. Ma veniamo alla terza ed ultima strategia. Manteniamo la nostra quotidianità. Sicuramente se vivete nelle zone rosse, nei vari focolai, mantenere la quotidianità è più difficile. Ma se non si vive in città critiche, cerchiamo di mantenere la nostra quotidianità, la nostra routine. Mantenere i ritmi quotidiani ci permette di affrontare le cose con più tranquillità e non farci prendere dal panico. Sicuramente, vista la situazione, è importante attenersi alle buone norme igieniche, ma questo dovrebbe valere sempre, a prescindere dal coronavirus o altri virus. Un altro effetto positivo del mantenere la nostra routine quotidiana è quello di diminuire i nostri pensieri catastrofici. Se noi manteniamo i ritmi quotidiani, noteremo una diminuzione dei pensieri negativi. E voi come state affrontando questo periodo? Provate ansia, panico o riuscite a mantenere il giusto senso critico e la tranquillità? Spero che queste indicazioni vi siano d'aiuto ad affrontare meglio questo periodo. Se avete altri suggerimenti, altri pensieri o delle riflessioni, mi farebbe veramente piacere che voi le condivideste con me. Se avete domande e dubbi, tranquillamente potete scrivere nella sezione dei commenti e io cercherò di rispondervi. E mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e Instagram, così avremo un contatto quotidiano. E noi ci vediamo nel prossimo video!